Il Governo scioglie il Comune di Caivano. Da ieri l'amministrazione è affidata a tre commissari straordinari. Il Consiglio Comunale era stato già sciolto per decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto a causa delle dimissioni di 13 consiglieri comunali su 24 ed era stato nominato un commissario. Ieri la nomina della triade su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che dovrà governare la pubblica amministrazione locale. La decisione è maturata sulla base di ciò che la Procura e le indagini hanno permesso di rivelare. La scorsa settimana la DDA di Napoli ha chiesto e ottenuto l'arresto di nove persone tra le quali ex amministratori pubblici che negli anni avrebbero fatto affari con la camorra. In realtà lo scenario è quello di un abbraccio mortale tra la politica locale ovvero chi negli anni scorsi ha avuto ruoli pubblici e una criminalità organizzata sempre più parte integrante del sistema. Tra i coinvolti nell'inchiesta ci sono l'ex assessore comunale di Caivano Carmine Peluso, l'ex consigliere comunale Giovan Battista Alibrico, l'esponente politico Armando Falco insieme con il tecnico comunale Martino Pezzella e il dirigente comunale Vincenzo Zampella. La presidente del Consiglio, Giorgia Melone, all'indomani dell'inchiesta sui presunti stupri di due ragazzine nel Parco Verde annunciò una bonifica dell'area, il commissariamente un ulteriore passaggio in questa direzione.